Abbiamo cercato attraverso la velocità di animare quello che è il mese più importante per l'estate, il mese di agosto e i primi giorni di settembre, abbiamo ristabilito quella che è la fruibilità dello stadio del mare, del largo Mediterraneo, dove verranno fatte gran parte delle eventi, ce n'è per tutti i gusti, partendo dal piano sotto le stelle, la musica rap, le sfilate di moda, e poi abbiamo inserito un elemento importante in quelle che in questi anni sono state definite delle periferie, dove noi andremo a fare una serie di micro eventi per accendere le luci su tutte le zone della città. Quindi si partirà da Piazza Grue, Piazza San Giuseppe, la Piazza di Zanni, Fontanelle, Villa del Fuoco, San Donato, appunto per dare un segnale importante per ristabilire la funzionalità dei quartieri che noi vogliamo rendere belli e pieni di vita. Crediamo che la vocazione turistica di questa città debba essere potenziata e sicuramente abbiamo bisogno di risorse diverse per programmare al meglio anche la prossima stagione, mettendoci al tavolo e arrivando a fare un cartellone unico per potenziare appunto la vocazione e l'economia del turismo legata alla nostra città. Dopo il successo della Notte Bianca arriverà anche la Notte Azzurra? Sicuramente, è anche tempo di bilanci. La Notte Bianca, grazie a Confesercenti e ai commercianti, è stata un'esperienza straordinaria che dovremo ripetere sicuramente su tutta la città, arriverà nei prossimi giorni, diciamo così, una Notte Biologica che riguarderà una parte di Riviera Nord e sicuramente noi avverremo già in programma di organizzare una Notte diciamo così azzurra, ma gli possiamo dare anche un altro colore che va ad interessare tutta la Riviera, partendo dalla Riviera Sud e dalla Riviera Nord, facendo un'iniziativa anche al sostegno dei balneatori che quest'anno vivono una stagione di crisi legata al tempo.